Musica Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Oggi è il primo di agosto, siamo nel 2016 Questa è la rassegna stampa di Fano TV Che da dieci anni vi tiene compagnia tutte le mattine Puntuale, in diretta, alle 7.30 E allora cominciamo con il santo di oggi Il mese di agosto apre con un santo, un santo famosissimo Che è Sant'Alfonso Maria de Liguori Nacque nel 1696 a Marianella, nord di Napoli Da una famiglia di antica nobiltà Era il maggiore di otto figli E' stato proclamato dottore della chiesa E' morto nel 1787 Il sole è sorto alle 5.54 E tramonterà alle 20.33 Il tempo cambia oggi Cambia è come, lo vedete anche voi dalla grafica Siamo sul sito della protezione civile delle Marche Che per oggi indica un cielo nuvoloso Con addensamenti maggiori Nella prima parte della giornata Avremo rovesce temporali sparsi In realtà poi Saranno più verso il pomeriggio Ma comunque Sta cambiando Ecco, questo è il dato Sta cambiando il tempo In questa mattinata Piano piano si sta nuvolando E quindi arriva il cattivo tempo I venti sono di brezza tesa Dai 40 settentrionali Per la giornata di domani Vedete cambia Avremo un cielo poco nuvoloso Con temperature minime stazionarie E massime in aumento Avremo tempo stabile soleggiato Almeno fino a venerdì 5 di agosto Ieri è stata una giornata Top record Per Pesaro Che ha avuto due eventi grandissimi Ha avuto le frecce tricolori Con lo spettacolo Che non c'è bisogno di raccontare Né di star qui tanto a giudicare È uno spettacolo bello Punto e basta Mentre poi c'è stato Il palio dei bracieri Il palio dei bracieri Che ha coinvolto Tutti i quartieri della città Apriamo però la pagina di Fano Del Corriere Adriatico Vediamo di che cosa parla Questa mattina il giornale Capitaneria Spiagge al setaccio Multe edifide Nelle concessioni Sono stati elevati Tre verbali Per la società Che gestisce Il servizio di salvamento Nell'arenale libero Attrezzature e personale carente Per gli interventi in mare In breve tempo però Tutti si sono messi a posto Con la legge Tutti si sono adeguati Anche la guardia costiera di Fano È impegnata in prima linea Nell'operazione Mare Sicuro Che ogni anno Per tutta la durata Della stagione balneare Vede impegnato il personale Della Capitaneria A garantire tranquillità E sicurezza Sotto invece Una riflessione Che facciamo anche insieme Per la storia di Penny Penny lo ricorderete È quel cagnolino Anzi quella cagnolina Che a Sant'Orso Si è messa ad abbaiare I ladri Che era O al ladro Che era entrato in casa Il ladro per tutta risposta Alla presa E l'ha buttata Dal terrazzo Del primo piano Una notizia Che vi abbiamo raccontato A livello locale Anche con enfasi E un'enfasi Che è stata amplificata A livello nazionale Dalla vita indiretta L'estate indiretta Che un pomeriggio Addirittura Si è collegato Che la trasmissione Si è collegata in diretta Con l'abitazione Di Sant'Orso Con i due coniugi E la cagnolina E hanno raccontato A tutta l'Italia Un po' quello che era successo E ieri Durante l'omelia A San Paterniano Nella Basilica Di San Paterniano Di padre Marzio Calletti Ha parlato Dal punto di vista sociale Di questo evento Non tanto della cagnolina Come ha giustamente Sottolineato il padre Marzio La cagnolina è stata bravissima Ha fatto il suo mestiere Ed è stata anche premiata Con la doppia razione di cibo Probabilmente Da parte della famiglia Però è il fatto sociale E Andare in diretta E raccontare E dare così tanta importanza Ad un fatto come questo Da parte della televisione pubblica Su questo Padre Marzio Lo vediamo sul giornale Su questo fatto Si è voluto concentrare Durante Quest'omelia Rimarcando Lo ripeto Ancora una volta Per non essere frainteso Che Va bene tutto Va bene La storia A lieto fine Però Padre Marzio dice Ad esempio Penso Ci sono ogni giorno Tante storie Che andrebbero raccontate Tante storie Che andrebbero raccontate Minuti e minuti Da raccontare Di persone Che fanno il bene Si danno da fare Per gli altri E nessuno ne parla Ad esempio penso a quelle mamme Che hanno figli malati Si prendono cura Dei loro figli In ogni attimo Senza ricevere Alcun riconoscimento Tutto nel silenzio Ecco Questi sono i nostri eroi I veri eroi del nostro tempo Da cui trarre Esempio Ed ispirazione Parole sante Verrebbe da dire Il sindaco Diventa giardiniere E questa è la fotografia Che ieri È circolata Un po' Nei vari Social network Il sindaco Che insieme ad altre persone Si è messo a togliere Le erbacce Dalle mura Le mura Che si trovano A due passi Siamo nel centro storico All'inizio Vicino a lei Dove c'era Porta Giulia Il sindaco È questo In maglietta gialla Qua vedete Che raccoglie Seri Poi c'era l'assessore Paolini I volontari Che hanno ripulito Questa area Delle mure romane Savelli Di noi città Dice questo gesto Senza clamore Fatto solo Per amore Della città E apre la mensa Sostitutiva Perché la mensa Di San Paterniano Durante il mese di agosto Chiude Però c'è Quella Non vanno in ferie Purtroppo le persone bisognose C'è sempre bisogno Di dare una mano E quindi a San Lazzaro C'è questa mensa Sostitutiva Che non è per niente scontata Dal momento in cui Ogni giorno Chiede la presenza Di almeno quattro volontari Per cui se avete un po' di tempo Se volete Dare una mano Eccetera Eccetera Ecco C'è la possibilità di farlo Gli orari di apertura Sono dalle 11 Alle 14 Con la distribuzione Del cibo Concentrata Dalle 12.30 Alle 13.30 Stiamo parlando Della Mensa Sostitutiva Che verrà attivata Nella parrocchia Di San Lazzaro La pagina Invece Di Fossombrone Sempre dal Corriere Adriatico In evidenza I furti I furti E i falsi tecnici Nei condomini Di questo Ce ne occupiamo spessissimo Nel Mirino Come sempre Finiscono le persone più deboli Quelle che Sono gli anziani A Fossombrone Sono arrivate Tante segnalazioni Sospette E gli espedienti Sono molteplici C'è chi si presenta Come ha detto Dell'Enel Quello della luce Quello del gas Insomma L'importante Ogni scusa è buona Per fare che cosa? Per entrare dentro casa L'importante è Per i malfattori I malviventi Entrare dentro casa Poi una volta dentro Dopo Ci pensano loro E allora C'è chi deve controllare I contattori del gas Vedete Che voi non conosciate già Nessuno Anche se si presentano Come tecnici Hanno in mano i pacchi Sono abili nel truffare Sono abili attori Sono bravissimi attori Anzi E fanno credervi Ciò che non sono Quindi Non fate entrare nessuno Chiudete la porta E dite Dall'altra parte Adesso chiamo E inventatevi un nome Se avete i figli Se avete il vicino di casa Se avete qualcuno Ma non fate mai Entrare nessuno in casa Questa è l'unica Regola valida Per non essere truffati Mura e fognature Grandi lavori a Cartoceto Il sindaco Rossi Dicono Dice Mancano solo I fondi Per ricostruire Parte di ciò Che è crollato Ha fatto il punto Il sindaco di Cartoceto Rossi Che sottolinea Come proseguono Comunque le opere Di messa in sicurezza Consolidamento E restauro Della cinta muraria Di Cartoceto In attesa di avviare Nel prossimo settembre Il secondo stralcio Di ricostruzione Delle mura Lungo via Cavour e Piazza Garibaldi Per un importo Di 548 mila euro Sulla pagina Della Valle del Cesano Del Corriere Addio a Beltrami Il tatami piange Si è spento Il maestro Lottatore Punto di riferimento Del tecondo locale Stroncato da una Malattia A soli 45 anni Era riuscito A portare La Laurentina Ai vertici nazionali Gli allievi Ricordano Anche il suo motto È una notizia Che arriva Da San Lorenzo In campo Lui era uno Abituato a lottare Ma questa volta Purtroppo contro la malattia Non ha potuto fare niente Si è spento così Questo Questo 45enne Agente di commercio Era conosciuto da tutti Come maestro Di arti marziali E grande Atleta In questa fotografia Ecco lo vedete Il maestro Adriano Beltrami E quello vestito Di blu Tra i suoi allievi Questa è la pagina Del Corriere Valle del Cesano Sotto Videocamere intelligenti Conto alla rovescia L'unione roveresca Accelera Dopo l'ennesimo assalto Ad un Bancomat Senigallia Centro e mare Il primo vero sold out Cioè tutto esaurito Della stagione Squadre antiterrorismo Addirittura E unità cinofile Per prevenire Il rischio Attentati La formula vincente Dice Mangialardi Il sindaco di Senigallia È coniugare Il turismo balneare Con quello culturale Sosta selvaggia Tante le proteste Sia sabato sera Che domenica Mentre sotto Bagnino Insegue i ladri E si riprende La sua bicicletta Restituita Si riprende la bici Non era la sua In realtà Era di una turista Milanese Il marsupio No E si riprende la bici Restituito invece Ad una turista Il marsupio Che era stato perso In via Carducci La pagina principale Invece del Corriere Adriatico L'edizione di Pesaro Eccola qui Frecce e Paglio Successo doppio Matteo Ricci Il sindaco di Pesaro Dice Mai vista tanta gente Così Una marea Umana tra centro E mare Brividi per L'air show Delle frecce tricolori Entusiasmo Invece per il Paglio dei Braceri Poi In breve Le notizie Sotto la testata Il tiro mancino A Civitanova Mar Che è il nostro concerto Ispirato al mare Poi Di Francisca Vola alle Olimpiadi Di Rio E il Fano Che comincia Con una Goleada Poker di Cocuzza Sotto Invece Sale la febbre Per il Summer Jamborì Senigallia Presa d'assalto Di giorno e di notte Una festa diffusa In tutta La città Per il festival Vintage Ancora record Di presenze E adesso La prima pagina Del resto del Carlino Occhi al cielo La zona mare Guardate che bella fotografia E le spiagge Prese d'assalto Per le frecce tricolori Massima allerta Delle forze dell'ordine Controllati Zainetti E una signora Che indossava Il velo Con un sorpasso Invece sul traguardo Tombaccia Vince il terzo palio In migliaia La corsa dei bracieri Pantano beffato Hacket consola Gli sconfitti A messa invece Con l'imam Noi vicino ai cattolici Ieri è stata una giornata Di solidarietà Tra il mondo islamico E quello cristiano Cattolico A Villa Ciccolini E Montecchio I rappresentanti Delle comunità islamiche Sono andate A messa L'Africa chiama E Fano risponde Invece Sulla pagina Di Fano e Urbino Nuova iniziativa A sostegno Della clinica Che cura i bambini Nello Zambia Sotto i comediant Fanno sorridere Gli anziani Applaudito spettacolo Al centro Diurno E poi sotto Ancora altre notizie Fanno gezzia Rimane La mostra D'arte Vediamola allora Questa fotografia Con l'articolo Che troverete Sulla pagina Del resto del carlino A messa Con il grande Abbraccio Tra cattolice Islam Musulmani In visita A Montecchio E Villa Ciccolini Fedeli Uniti Tutti Contro il terrore Guardate Questa immagine Che è davvero Singolare Se non altro Vedere Sull'altare Ancora Con il calice Insomma Il sacerdote Con l'imam E poi Una foto Ricordo Fuori Dalla Chiesa E ancora Arrestato un cuoco Arrestato un cuoco Non pagò gli alimenti All'ex moglie Deve scontare Sei mesi Ai domiciliari Ma lui dice Io lavoro solo d'estate Adesso come faccio Si chiama Riccardo Paolini Ha 57 anni Disoccupato E ora Ora è pure Agli arresti domiciliari Perché Non ha pagato I 350 euro Mensili All'ex moglie Dopo che nel 2008 Ha perso Il lavoro Tutta la storia La troverete Sulla pagina Del resto del carlino La rassegna stampa L'occhiata ai giornali La concludiamo qui Grazie per averci seguito Vi auguro Una buona giornata E vi ricordo Che questa sera Alle 20 e 30 C'è il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Grazie per la visione 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 Grazie per la visione